Ed eccoci di nuovo insieme, pronti, prontissimi per un'altra tappa di luoghi e misteri. E davvero in questo caso bisogna partire dal presupposto che il mistero è inspiegabile, almeno per noi moderni che vediamo tutto dal punto di vista della fisica, della medicina. Tutto deve avere una motivazione, nulla si crea e nulla si distrugge. E quindi è difficile, o tutto si crea e tutto si distrugge, è difficile riuscire a contemplare e magari anche ad immaginare che possono accadere eventi di questo genere. Siamo ovviamente sempre in compagnia di Claudio Canistra, ciao Claudio. Buonasera a tutti, buonasera. Parliamo di corpi incorrotti. Diciamo che questo è un mistero che viene dal passato ma è un mistero vivente, nel senso che forse è la puntata più particolare di tutte quelle che abbiamo fatto, perché è una cosa che i telespettatori possono andare a vedere di persona. Certo, e possono non solo andare a vedere di persona, ma lo possono constatare anche perché la teca nel quale è conservato il corpo di quella che oggi viene chiamata Santa Caterina da Bologna, emana ancora sudore come se fosse un corpo vivente, emana sudore e fra l'altro è un sudore che ha un odore particolare, quello del profumo di rose. Sempre le rose come Santa Rita, è sempre qualcosa di molto dolce, molto soave. Diciamo una cosa, che noi siamo andati a Bologna, in una chiesa che è la chiesa del Corpus Domini, lo dico perché se qualcuno vuole andare a visitarla, che si trova in via Pietralata 19 che sta vicino praticamente a Porta San Mamolo. È una chiesa piccola, poco conosciuta, dove appunto c'è questo... Io ho provato a fare qualche immagine anche dell'interno della chiesa, no? E ovviamente sono stato rimproverato dai cultori delle immagini come Davide Brincolani e che mi ha rimproverato anche di non aver avuto la mano ferma. Ma io vorrei solo, visto che ci sta ascoltando, che capisse anche qual era il mio stato d'animo in quel momento, no? Perché non era solo lo stato d'animo del visitatore o di chi stava provando o cercando di fare una bella immagine di quello che stava vedendo per trasmetterlo ai telespettatori. Ma era davvero anche questo tremolio che si vede, e chiedo scusa ai telespettatori, era dovuto anche all'emozione che provavo e che credo sia sicuramente l'emozione che potrebbe trovare e avere, e l'ho visto anche nelle persone che erano lì in quel momento, l'emozione che potrebbero provare tutti coloro che si trovassero a vivere questa esperienza, che si può vivere nel quotidiano. Diciamo che queste immagini che guardiamo sono dell'interno della chiesa. Dell'interno della chiesa, certo. Questa chiesa, ripeto, del Corpus Domini, che è una chiesa piccola, e ha un'energia molto molto particolare questa chiesa, ha una potenza energetica paurosa, se uno ci va dentro, questo che voi vedete, questo rosone qui così, e da dove dal di fuori, cioè dalla chiesa, è possibile vedere il corpo della santa, se non mi sbaglio. Poi dopo entreremo anche nella cappella, però per vedere un po' dal di fuori, uno entra in questa chiesa, apparentemente una chiesa come tante, diciamo così, buoni e freschi, eccetera, poi c'è questa specie di rosone, vedete in fondo. In fondo si intravede già il corpo della santa. Queste invece sono all'entrata, le immagini che ci sono all'entrata, che raccontano la vita di questa santa, Santa Caterina dei Vigri, o Santa Caterina da Ferrara, che poi diventa da Bologna, perché nasce a Bologna, va a Ferrara e poi ritorna a Bologna. Queste raccontano la sua vita, che adesso poi descriveremo un po', che è particolare, c'è tutta una serie di episodi. Con le immagini ci fermiamo qui, perché lasciamo un po' la curiosità, delle immagini che riguardano invece la santa, così com'è seduta, e racconteremo poi tutti quelli che sono stati passaggi che si sono verificati dopo la morte di madre Caterina dei Vigri, o da Vigri, a seconda di come la si vuole chiamare, che morì, poi dopo Claudio, andiamo a vedere la carta natale, però una piccola, breve, brevissima cronistoria, che morì all'età di 50 anni, il 9 marzo del 1463, ed è passata la storia come Santa Caterina da Bologna. In realtà, lei è vissuta molto alla Corte degli Este, a Ferrara, prima di trasferirsi di nuovo a Bologna, per diventare madre Badessa del convento della chiesa che abbiamo appena visto, ed è rimasta lì praticamente dopo la morte. Figlia di una famiglia nobile, di una famiglia colta, di una famiglia di letterati, tant'è che parlava correttamente il latino, e addirittura Badessa, con, chiamiamola, la sua vice, che poi la sostituì al momento della morte, un'altra grande figura a livello di cultura del metà del 1400, illuminata Bembo, figlia di quel Bembo, che alla Corte, visse a lungo alla Corte degli Este, e che è considerato uno dei padri della lingua italiana, ricordiamo che in quel periodo si parlava in volgare e si scriveva in volgare, e quindi siamo in un periodo di massima fervenza, se vogliamo, del Medioevo, quel Medioevo che spesso viene dipinto o viene raccontato come un periodo buio, in realtà era un periodo che ha espresso grandi figure sotto tutti i punti di vista, sia della letteratura che dell'arte, e a questo punto veniamo al piano strale. Sì, diciamo intanto che lei nasce l'8 settembre del 1413, questo è importante, muore nel 1463, il 9 marzo, infatti il 9 marzo è il giorno in cui si festeggia, diciamo così. Da qui chiaramente l'ora non c'è, però la carta natale possiamo vedere, intanto il mese di, diciamo così, settembre è legato alla Vergine in generale, e quindi c'è anche questa piccola relazione a tenere presente. Nella carta cosa possiamo vedere? Volevo dire anche una cosa prima, il padre era un personaggio particolare, perché era lettore all'Università di Padova, era il diplomatico della Casa d'Este, quindi aveva fatto studiare comunque la figlia, ed era molto molto amico del Duca d'Este, tanto che Caterina va praticamente a studiare con Margherita d'Este, che è la figlia del Duca. Teniamo presente un'altra cosa importante, che in quel periodo Ferrara era all'inizio della sua crescita da un punto di vista proprio culturale, perché è il momento in cui ci sono, come dire, viene costruito il palazzo, vengono costruite tutta una serie di cose, quindi c'è il Duca Leonello, mi sembra, il quale dà l'inizio a tutta una serie di cambiamenti della città, che poi si completteranno nel 1492, quando ci sarà l'ampliamento della città. Però è il momento in cui gli Este cominciano, diciamo così, ad avere più potere e avere più forza. Ricordiamo che gli Este sono Ferrara, ma sono legati anche a Modena, e sono imparentati con varie famiglie, l'abbiamo già parlato anche. Sicuramente il periodo maggiore di splendore per Ferrara è la fine del Quattrocento, quando c'è la cosiddetta addizione Erculia, quando c'è il Duca Ercole d'Este, è l'inizio del Cinquecento, quando sono tutte le guerre, tutti gli scontri, eccetera. Però lì sta nascendo una rivoluzione culturale, da questo punto di vista, che farà sì che Ferrara sarà molto più importante di Bologna e di tante altre città di San Deo Circondario. Questo bisogna tenere presente, quindi è un momento di studio. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato a lungo dei Bentivoglio, della cattedrale di San Giacomo Maggiore e dei Bentivoglio che erano comunque anche come famiglia, anche loro legati comunque agli Este, perché sappiamo perfettamente che per potenziare, per dare più potere alle famiglie, avveniva anche spesso matrimoni tra grandi casate. Il figlio del Bentivoglio aveva sposato una figlia degli Este. Una figlia degli Este, certo. Diciamo una cosa, che intanto lei studia il latino giustamente, poi musica, pittura, lei compone poemi, quindi poesia. E suona il violino. Suona il violino, che dopo lo vediamo perché c'è anche questa viola. Sono cose che per una donna dell'epoca erano molto molto rare, uniche insomma. Quindi era una donna di grande cultura da questo punto di vista. Però aveva sempre avuto di base questa spiritualità. E dove la troviamo questa spiritualità nella sua carta? Qui troviamo una spiritualità particolare. Non è solo la spiritualità nettoniana che abbiamo visto in altri casi, solo dell'intuizione e della preveggenza. Qui troviamo la spiritualità del monastero, del convento, perché lei fin da piccola, nonostante sia stata la corte degli Este, lei voleva comunque pregare, andare in convento. e quindi in qualche maniera fin da giovane, 13-14 anni... Entrò comunque in convento a Ferrara. Sì, dopo però. Però quando era tra 13-14 anni... Sì, no, certo. ...c'è già un gruppo di persone con cui si incontra per pregare e sono diciamo dei laici che in qualche maniera si incontrano per pregare. E dopo continuerà questa strada. Questo come lo vediamo dalla carta? Nella carta troviamo che ci sono questi pianeti in vergine, quattro pianeti in vergine. Ho detto che la vergine è il segno come viene rappresentata la Madonna con in mano, diciamo così, delle volte il bambino. C'è poi tutta una serie di cose perché Caterina ha una relazione particolare con Gesù Bambino e quindi anche questo gli darà un'impronta particolare. Diciamo così, nella notte di Natale c'è un miracolo famoso perché il bambino si fa baciare da Caterina e le va in braccio, insomma, no? Quindi, e questo le darà una forza potentissima, diciamo così. Però ci sono questi pianeti in vergine che sono legati a questo. Ma l'altro pianeta importante che lo vedete nella carta in basso è Saturno. Saturno è quadrato a tutti questi pianeti. Siccome Saturno è il pianeta del tempo però il pianeta anche, lo vedete in basso lì nel seno dei gemelli e i pianeti in vergine sono sulla destra nella carta, all'estremo destra e sono messi in relazione con quei tratti tratteggiati. Questo cosa vuol dire? Queste sono tutte quadrature. Quando si dice che le quadrature possono essere anche positive questo è proprio in questo caso. C'è questo bisogno di isolamento, c'è questo bisogno di solitudine, c'è questo bisogno di preghiera, c'è questo bisogno di salire alla montagna che è la montagna del Saturno, cioè la montagna dove sta il pensiero, dove sta la sapienza, dove sta l'innalzamento, dove sta il miglioramento. È la montagna del Capricorno che arriva fino al cielo, diciamo così. Quindi queste qualità la portano a voler pregare e comunque la portano anche a voler restare in convento, in monastero. Questa è la prima cosa. Poi anche qui abbiamo sempre un Nettuno molto forte che è Nettuno, il pianeta della spiritualità. Però in più c'è questa cosa che anche questa, come dire, si racconta per esempio che lei la notte di Natale fece una cosa che anche a Bologna ancora si fa, una specie di, come dire, di rituale che si fanno mille Ave Maria alla Madonna e lei la fece questa notte di Natale e dopo il bambino, Gesù Bambino, le andò in braccio. Quindi questa è un'altra cosa che dimostra questo legame spirituale molto molto particolare. Dopo però era anche una persona aperta al mondo perché comunque nel monastero dove lei è stata badessa a Bologna gli ultimi dieci anni, otto anni, mi sembra della sua vita e lei comunque c'era le persone che gli chiedevano aiuto e quindi con cui si rapportava e i miracoli che ha fatto e che fattigiano tuttora perché ci sono delle persone che diciamo così vanno lì e hanno diciamo delle grazie. Certo. Allora, carmelitane e quindi dell'ordine ovviamente no, diciamo che sono prima era in qualche maniera diciamo vediamo prima magari la chiesa vediamo come si entra come si arriva no? Lei era prima dell'ordine agostiniano dopo è passata invece ai francescani e quindi Santa Chiara infatti sono clarisse sono clarisse di Santa Chiara. Certo. e la chiesa in un certo senso l'abbiamo vista con le immagini quello che vediamo è l'esterno della chiesa con una lapide nella quale nella quale che forse non si riesce a leggere chiaramente ma riporta e ci racconta della chiesa del Corpus Domini ovviamente che all'interno delle mura di questo convento perché qui siamo all'esterno del convento sono conservate le ossa di un altro grande di Bologna Luigi Galvani che molti forse ricorderanno per lo studio sulla rana sì e questo è il monastero del Corpus Domini lo dobbiamo ricordare questo monastero è tutto muragliato e quindi quando si arriva ci sono queste alte mura questo l'ha fatto costruire praticamente l'ha costruito lei la chiesa l'ha fatta costruire lei e la chiesa rivediamone ancora con immagini mentre tu parli della particolarità di questa chiesa particolare soprattutto la cappella interiore della chiesa qui quando si entra e c'è diciamo questo rosone illuminato perché c'è questa cappella particolare dove è conservato il corpo della santa perché cosa succede succede che quando lei muore in qualche maniera l'ordine delle clarisse che sono francescane praticamente legata a Santa Chiara non dovrebbe essere sepolta in una vara viene messa in terra così e le monache in qualche maniera le buttano sopra la terra così e ne parleremo comunque nella seconda parte quando vedremo anche la teca nella quale è contenuta attualmente la santa noi però siamo andati a chiedere anche l'aiuto di padre Marziano Rondina esatto per avere anche una sua opinione e nel momento in cui glielo ho chiesto mi ha detto no però prima di parlarne voglio andarla a visitare perché l'ho vista tanti anni fa ma voglio tornare ad avere le sensazioni che ho avuto quando anch'io mi sono trovato davanti al corpo incorrotto perché questo delle sensazioni è un'altra cosa dobbiamo dire ai telespettatori di andare in questa chiesa perché in questa chiesa si hanno delle emozioni in questa cappella dove c'è la santa che la vedremo dopo si hanno delle emozioni particolari particolari è certo allora sentiamo a questo punto padre Marziano quando ho chiesto dei corpi incorrotti perché in una puntata se ricordate abbiamo parlato anche dei corpi incorrotti dei santi e allora sentiamo padre Marziano ieri sera stessa mi trovavo davanti a questa immagine del proprio del corpo poi in questa posizione particolare che è quella di seduta normalmente il corpo conservato dei santi è in forma diciamo distesa e questa è una particolarità di questa santa che non aggiunge tanto sul fatto di per sé stesso ma è anche nel modo con cui la chiesa ha sempre raccomandato il rispetto per le reliquie tanto più quando il signore ha permesso che anche si conservassero in questo modo naturalmente per il devoto che va questo contribuisce ad avere un'esperienza diciamo più emotiva che facilita anche la preghiera la riflessione e il pensiero anche sull'insegnamento di questa di questa santa e vedo che per Bologna è un punto di riferimento è chiamata la santa in particolare in modo speciale ed è la sua chiesa la sua cappella il luogo in cui è conservato questo corpo vedo che nei giorni in cui è aperto adesso in questi giorni tutta la giornata perché siamo nella novena ma nel corso dell'anno per alcuni giorni precisi durante la settimana è un luogo dove la gente va a pregare ho visto uomini e donne di diverse età e quindi questo sta a dire un richiamo efficace cioè la gente coglie attraverso questa immagine che ha un suo effetto emotivo di espressione religiosa coglie anche il messaggio e quindi anche la presenza diciamo di un valore che si riferisce ovviamente al bene di Cristo e al bene che è la Chiesa bene poi ci siamo inoltrati nel racconto diciamo quello che poi vedremo e sentiremo nella seconda parte perché molto molto riguarda il momento nel quale come hai ricordato tu venne sepolta e poi tutto quello che accade successivamente alla sua sepoltura e allora sentiamo cosa ci dice padre Marziano e difatti il suo corpo che fu immediatamente sepolto sotto terra poi dopo pochi giorni pochi giorni si rifece una riassumazione diciamo e lo trovarono particolarmente diciamo con i segni della mancata scontata corruzione invece con del profumo e addirittura con anche il colorito della pelle che naturalmente sono segni queste qui che richiamano al valore di questa testimonianza perché la grande eredità di questa donna è proprio quello che lei ha scritto anche come maestra spirituale attraverso quell'opera le sette armi spirituali e quindi è importante per noi ritrovare anche in questi segni un progetto di Dio che voleva un richiamo perché fosse presente il contenuto della sua testimonianza dei suoi insegnamenti che ovviamente quelle dei santi sono sempre un invito ad avere un rapporto molto diciamo sentito con la persona del Cristo Salvatore e con l'esperienza della Chiesa questo mi sembra la cosa più percepibile e anche più utile sia nel leggere queste notizie che hanno degli aspetti singolari sia anche nella continuità che questo fatto ha avuto perché come dicevo prima oggi vedendola così ci è più facile fare memoria di quello che lei rappresenta ho sottolineato donna che potrebbe essere la rappresentazione chiara di una donna moderna una donna dall'orizzonte aperto scrittrice pittrice con dei quadri veramente straordinari e addirittura grande capacità di suonare il violino sentiamo cosa dice padre Marziano è vero questa è la singolarità che mi ha colpito quando sono venuto a miglior conoscenza di questa storia una donna diciamo affatto ritirata e basta una donna educata in un ambiente elevato come era possibile allora nelle case nobili una donna aperta alla poesia alla cultura alla musica e una donna che non stava affatto male nell'ambiente in cui stava che ha vissuto in parte all'inizio a Bologna e poi a Ferrara e che proprio lì ha sentito questo richiamo a un'espressione di vita che non era nella continuità logica per la quale era stata educata ma che gli ha permesso di portare questi contributi di formazione anche umana e culturale in quella che poi è diventata la sua espressione di donna contemplativa nella spiritualità dell'ordine francescano mi pare che a conoscerla bene c'è il recupero di tante cose belle perché a volte sembra che una mona che è pure santa si sia staccata da tutto invece ha trovato nelle bellezze della vita la cultura la poesia la musica il canto ha trovato la base per poi completare direi e coronare la sua esperienza sia come donna come donna consacrata e oggi per noi anche come santa esemplare ecco poi aggiungerei una cosa che lei ha fatto anche delle miniature di libri lei ha fatto un breviario miniato ci dovrebbe essere una foto su questo che l'ha fatto lei a quell'epoca quindi questo è particolare questo vedete l'esemplare e che si può andare a vedere quando si visita la cappella quindi non è solo cioè ci sono tutte le arti creative chiaramente musica, pittura poesia però c'è anche questo scrivere a quei tempi era una cosa particolarissima ecco a quel punto mi sono permesso di allargare il discorso Claudio pochi esempi perché ricordiamo che siamo in pieno medioevo quindi la figura della donna non era certamente la figura di una donna aperta come ci ha detto padre Marziano aperta al mondo aperta alla cultura e inevitabilmente visto che ne abbiamo parlato anche a lungo non potevo chiedergli un paragone dunque fra Santa Caterina da Bologna e il De Garda di Bingen un'altra grande figura femminile del medioevo sentiamo beh no io penso perché con questo vuol dire un'attenzione particolare a queste due figure pur nella diversità ma stiamo parlando come accennava prima di un aspetto diremmo moderno che quando si conosce ci colpisce perché magari il semplice devoto va lì e vede e va lì per una preghiera va lì per avere un ristoro religioso poi ci accorciamo che questo ristoro religioso non è affatto contrario a delle belle delle bellezze delle ricchezze della vita che anzi vengono coordinate e che ci aiutano ad essere per noi nel nostro vissuto ciascuno di noi anche capace di far tesoro di quei doni di quelle capacità che abbiamo o che sono in noi o che sono negli altri perché il bene è comunque sempre nella linea del vero esistere e della vera proiezione di tutta la nostra esistenza quindi è anche uno sguardo secondo me di speranza di sereno ottimismo di cui abbiamo tutto bisogno perché di fronte ai santi non dobbiamo stare a diciamo a inchinarci con dei sentimenti riduttivi o negativi assolutamente sono un invito a tirar fuori anche da noi oggi e dal nostro tempo il meglio che c'è perché c'è e non deve essere diciamo ostacolato o ricoperto da altre espressioni di male che esistono certamente quindi è un invito per me questo l'ho sentito anch'io personalmente come un invito attraverso Santa Caterina de Vigri qui di Bologna nella sua spiritualità francescana ad avere uno sguardo sereno sulla vita e sulla fede e qui si chiude la prima parte noi stiamo parlando naturalmente di madre Caterina de Vigri conosciuta e passata la storia come Santa Caterina ma quello che conta e lo vedremo nella seconda parte è tutto ciò che è accaduto dal momento della sua sepoltura in avanti per arrivare ai giorni nostri e tutti i tanti i tantissimi miracoli allora si faceva registrare i miracoli da un notaio che le registrava e quindi venivano annotati in un in un registro e quindi diventavano praticamente ufficiali di questo con le immagini della Santa parleremo nella seconda parte di luoghi e misteri di luoghi e misteri di luoghi e misteri eccoci di nuovo insieme nella prima parte abbiamo anche sentito padre Marziano Rondina a proposito a proposito di ciò che lega Santa Caterina da Bologna anche se vogliamo alla città di Bologna ma soprattutto ciò che lega Santa Caterina da Bologna alla spiritualità e anche al legame particolare che si può arrivare a ottenere a concretizzare una volta entrati in quella chiesa che ha delle caratteristiche particolari e poi ce ne parlerai Claudio ma anche una volta che ci si trova davanti alla Santa col corpo incorrotto e in una posizione che è davvero l'opposto della fisica e della medicina diciamo così che i Santi normalmente come ha detto padre Marziano stanno distesi quando si muore si mette distesi la particolarità fra le altre di questa Santa è che lei sta seduta seduta su una seggiola dove l'ha messa le monache dopo un po' che era morta quindi e questa posizione qui dietro di me lo vedete si è mantenuta diciamo così nei secoli questa è la cosa particolarissima 500 anni cioè una persona normale se si siede le ossa si sfasciano qui invece quindi è un miracolo vivente questa è l'altra cosa questa è la prima cosa la seconda cosa è che si dice che è incorrotta perché la pelle è ancora profumata le mani diciamo così il corpo è ancora elastico e sono successe tutta una serie di cose subito dopo la sua morte che hanno portato in questa posizione abbiamo detto che una volta che era morta le suore le clarisse diciamo di Santa Chiara hanno qui nel loro ecco posso in questo caso usufruire di questo libro che poi le monache ci hanno molto cortesemente regalato nel momento in cui siamo andati a visitare la la cappella e tra poco vedremo anche le immagini che ho molto maldestramente realizzato questa sì sono partito dall'esterno per arrivare questa questa qui questa che si vede lei esatto esatto e poi adesso arriveranno anche i particolari però torneremo poi a queste immagini perché io volevo come detto usufruire e far vedere questo libro che le monache ci hanno regalato e si intitola Specchio di Illuminazione questa è la traduzione in italiano perché la versione originale come abbiamo detto è in volgare ed è scritto appunto da illuminata Bembo colei che prese il posto l'ufficio di Badessa del monastero del Corpus Domini di Bologna alla morte di Santa Caterina e lo voglio leggere perché Claudio intanto possono andare anche le immagini che abbiamo registrato perché davvero è molto toccante e molto coinvolgente tutto quello che scrive perché scrive allorché la fossa fu pronta e quando vi calarono il corpo che non era racchiuso in una bara esso emanava un profumo indescrivibile dolcezza di indescrivibile dolcezza riempiendo l'aria tutto intorno le due sorelle che erano discese nella tomba mosse a compassioni dal suo viso bello e radioso lo coprirono con un panno e questo naturalmente dopo che era stata riesumata diciotto giorni dopo avvenne poi la riesumazione è vero lo coprirono con un panno e posero una rosa tavola di alcuni centimetri sopra il corpo affinché le solle di terra non la toccassero perché diciamo che un po' la sfigura diciamo così ma poi arriva perché dobbiamo ricordare che allora era usanza dei francescani la sepoltura senza barra tuttavia la fissarono così goffamente che quando la fossa fu riempita di terra il viso ed il corpo furono lo stesso a contatto col terreno le sorelle venivano a visitare spesso la tomba e notavano sempre il dolce odore che la circondava giacché non c'erano fiori ne erbe aromatiche accanto alla fossa ma solo arida terra esse si convinsero che il profumo proveniva proprio dalla tomba questo è quanto scrive illuminata Bembo ben presto cominciarono i miracoli e alcuni malati gravi che avevano visitato la tomba furono guariti nel frattempo le sorelle si erano pentite dall'averla seppellita senza barra e si lamentarono con il padre confessore egli uomo di gran senno chiese cosa intendessero fare per porvi rimedio noi rispondemmo tiratela fuori mettetela in una barra e riseppellitela egli fu sorpreso da una simile richiesta poiché erano già passati diciotto giorni dalla morte e quindi era certo dello stato di decomposizione del cadavere tuttavia noi gli facemmo notare il dolce profumo ed egli finalmente diede il permesso quando trovammo il corpo e ripulimmo il viso notammo che era stato schiacciato e sfigurato dal peso della tavola di legno e che vi era stata posta sopra inoltre scavando tre delle sorelle l'avevano danneggiata con la vanga la ponemmo in una bara e stavamo per seppellirla ma uno strano impulso ci spinse a sistemarla temporaneamente sotto il portale fu allora che il naso schiacciato e l'intero viso ripresero gradualmente la loro forma naturale la defunta divenne di colore bianco bella intatta come se fosse ancora viva le unghie non erano annerite ed ella emanava un odore delizioso tutte le sorelle erano profondamente agitate il profumo si diffondeva nella chiesa e nel convento impregnando le mani che l'avevano toccata e non sembrava esserci alcuna spiegazione dopo essere diventata abbastanza pallida ella cominciò a cambiare colore diventando più rossa mentre il suo corpo cominciava a demettere un sudore piacevolmente profumato passando dal pallore ad un colore d'ambra incandescente ella trassudava un liquido aromatico che a volte sembrava acqua limpida e da volte un mescuglio d'acqua e sangue piena di meraviglie e perplessità chiamammo il nostro confessore la voce si era già sparsa in città ed egli accorse accompagnato da un colto medico maestro Giovanni Marcanova essi osservarono da vicino e toccarono il corpo per lo spazio di tre mesi dopo la morte gli uscì dal naso uno scodellino di sangue l'ho voluto leggere proprio con le parole di illuminata Bembo c'è un altro episodio che è interessante che le monache portano la santa in chiesa dopo questi 18 giorni perché sentivano questo profumo lei quando arriva in chiesa la mettono davanti all'altare si alza nonostante che fosse morta da 18 giorni questo è spiegato anche nella sua vita si alza e fa come una genuflessione diciamo così rispetto al Santissimo perché c'era il Santissimo è come se anche dopo morta in qualche maniera aveva questo legame fortissimo col Santissimo quindi c'è come non dico che sia risuscitata però c'è come una rinascita da questo punto di vista questa è la prima cosa importante la seconda cosa che non dimentichiamo che i miracoli li ha fatti anche in vita non li ha fatti solamente appena morta perché in vita ci sono state delle cose particolari ci fu una sorella che per esempio con la zappa si era tagliata un piede e lei praticamente glielo rimise a posto e la fece guarire poi c'era una persona e quando lei è arrivata a Bologna hanno cominciato a riferirsi a lei e quindi lei li aiutava e ha fatto tanti altri miracoli cioè per esempio il famoso miracolo del pane nel senso che lei aveva fatto faceva tanti lavori in convento però uno di questi lavori era quella che era anche la cuciniera lei doveva preparare il pane cosa succede? succede che quel giorno lì era arrivato un sacerdote che faceva una predica particolare che lei voleva ascoltare lei lascia il pane nel forno e poi lo lascia lì diciamo così e va a ascoltare la predica ritorna dopo varie ore il pane non si è bruciato e in qualche maniera è perfetto cotto in maniera perfetta quindi anche questo è un miracolo che ha riportato nella sua vita tanto che poi le sorelle appunto mangeranno di questo pane questo è come dire è un simbolo dell'eocarestia non dimentichiamolo certo e infatti continua i ripetuti prodigi convinsero le monache a collocare il corpo nella stanza dove cantavano il loro ufficio più tardi decisero di costruire una nicchia davanti all'altare maggiore dove porre la salma seduta in un seggio al momento di farla sedere tuttavia divenne così rigida da rendere impossibile l'operazione a quel punto la badessa illuminata Bembo naturalmente si piegò in ginocchio davanti alla santa e disse madre suor Caterina in virtù di quella santa obbedienza di cui eravate innamorati in vita e che tanto raccomandaste alle nostre figlie vi raccomando di lasciar mettere a sedere sopra la sedia che è stata preparata diciamo una cosa che la Bembo era molto giovane quando entrò in convento quindi era la più giovane e quindi Santa Caterina l'aveva presa un po' come se fosse sua figlia e quindi l'aveva un po' fatta crescere educare quindi c'era una relazione particolarissima con la santa e anche per questo che poi succedono queste cose certo proferite queste parole prosegue il corpo senza che alcuno lo toccasse si abbassò da sé ponendosi a sedere come avrebbe fatto un qualsiasi vivente per più di 70 anni le unghie e i capelli crebbero come quelli di una persona viva ed erano regolarmente tagliati dalle moniche addette ancora oggi attenzione il corpo della santa trasuda un liquido trasparente che imbeve le vesti perciò le suore devono cambiarla periodicamente e prendersi cura di lei esso rimane intatto nonostante il colore nero della pelle dovuto alle lampade ad olio e alle candele accese utilizzate durante i secoli per i vari riti liturgici seduto sopra un seggio nella chiesa del Corpus Domini a Bologna questo è quanto? diciamo una cosa che questa teca è una teca che non è sigillata quindi gli può entrare l'aria ma nonostante questo il corpo non si è modificato e tenete presente che quel nero che voi vedete nelle immagini appunto dipende dal fumo delle candele però già se si guardano le mani le mani sono molto molto più morbide molto più proprio più dolci da questo punto di vista ti ricordi Claudio io ti ho detto ho avuto la netta sensazione mentre facevo quel filmato mentre provavo a fare qualcosa di decente e lo si vede perché adesso quando le immagini torneranno sulla santa lo si vede sembra quasi di vedere la falange falangina e falangetta cioè la composizione delle ossa delle mani e sembra quasi che le mani siano trasparenti e che facciano vedere appunto le ossa questa è stata la mia sensazione però se vedete si vede il bianco proprio nelle mani pur essendo scura la pelle è questo che dico poi tenete presente un'altra cosa che fu messa in piedi nel 1529 e quindi è dal 1529 che in questa posizione è una cosa molto molto particolare però diciamo che i santi comunque tutti i santi hanno delle caratteristiche particolari e hanno quindi fanno dei miracoli particolari la cosa che deve essere un filmato dove sempre nella cappella si vedono gli strumenti si vede il violino si vede le cose che lei ha dipinto perché come dicevamo era una donna molto intelligente e dalla carta si vede che doveva essere anche una persona molto gentile molto carina c'ha un mercurio congiunto a venere che è un aspetto che indica appunto le persone gentili equilibrate graziose lei è sempre stata molto disponibile non a caso da quando è arrivata a Bologna in sette anni ha costruito quella chiesa quindi questo è un altro miracolo nel miracolo e quella chiesa noi la vediamo adesso che ci sono poche monache una volta è arrivata a avere fino 300 monache quindi è una cosa è lì proprio la santità la spiritualità che tocca e quello che tocca trasforma certo e chiudo in questo caso chiudo con un breve scritto di un altro nostro grande amico di Don Marcello Stanzione che dice certamente perché lontano dalla fede e dalla prospettiva cristiana queste barre di cristallo possono apparire come un'ostentazione macabra e di cattivo gusto ma nella visione cattolica più genuina esse rientrano in quel doveroso culto dei santi che costituisce un dogma di fede anche se non indispensabile ai fini della propria salvezza eterna il concilio di Trento in merito recita e questo è quanto scrivono dopo il concilio di Trento i corpi dei santi martiri e altri che ora vivono con Cristo corpi che erano sue membra e templi dello Spirito Santo che un giorno resusciteranno dalla carne per lui e saranno glorificati nella vita eterna possono essere venerati dai credenti Dio concede molti benefici agli uomini attraverso di loro e voi che dica diciamo una cosa che forse abbiamo dimenticato uno non tutti lo sanno ma lei è la patrona degli esorcisti quindi viene invocata contro i mali ma soprattutto contro i mali spirituali poi ci sono anche dei miracoli gli ex voto che ci sono nella cappella che è piena di ex voto che sono anche miracoli fisici diciamo così di guarigione di persone però questo non dobbiamo dimenticarlo che è invocata contro i mali e i problemi spirituali quindi tutti coloro diciamo così che hanno delle problematiche nel senso che non si sentono a posto che hanno delle questioni interne interiori diciamo per essere la patrona degli esorcisti vuol dire che c'è un potere notevole si dice appunto nella sua storia che lei abbia lottato col diavolo e parecchie volte che il diavolo l'abbia ostacolata per esempio quando è venuta a Bologna quando gli hanno detto che doveva da Ferrara perché a Ferrara c'è una chiesa che è dedicata a lei che si può anche andare a visitare quando gli hanno detto di venire a Bologna lei si ammalò e la misero sulla barca sul canale navile perché una volta da Ferrara a Bologna si andava per barca e man mano che si avvicinava a Bologna lei cominciò a star bene era come qualcosa che voleva impedirle di arrivare fino a Bologna quindi era il male che cercava di ostacolarla però la sua forza era tale era nettamente superiore a questo poi ha avuto anche un'altra cosa è stata anche una profetessa pochi lo sanno ma lei durante la sua vita ha fatto alcune profezie sul futuro dell'ordine francescano di come sarebbero andate le cose diciamo così quindi sono tante le sue capacità non è solamente una questione culturale di una persona estremamente colta che aveva studiato ha scritto il breviario sapeva diciamo che ha fatto questo quadro di questo intaglio della visione di Gesù e poi anche queste miniature del breviario ha scritto delle poesie ha scritto questo libro che tu hai detto però ne ha scritto anche un altro che sono le sette armi spirituali di cui ha parlato forse un attimo eccolo qua di cui ha parlato un attimo padre Rondina questo l'ha scritto sì dove spiega Santa Caterina sì dove spiega il libro invece quello che ho letto io è quello di Immacolata questo l'ha scritto lei e non l'ha fatto vedere subito alle monache qui in questo libro spiega come bisogna fare per avvicinarsi alla spiritualità i passi che bisogna seguire sono sette passi che bisogna seguire con delle preghiere particolari per aiutare coloro che sono in difficoltà a venire fuori dalle loro difficoltà e a raggiungere più equilibrio questo lei non l'ha fatto vedere alle consorelle l'ha fatto vedere prima di morire e dopo poi comunque questo è stato stampato e quindi diventa una specie di chi va dentro la cappella se riusciamo magari a vedere le immagini se ne possiamo rivedere ancora c'è tutto un percorso un percorso particolare all'entrata ci sono appunto le immagini della diciamo così della sua vita l'abbiamo vista all'inizio di vari momenti della vita questo fatto che dopo 18 giorni quasi resuscita eccetera poi quando si entra prima di entrare proprio nella cappella c'è un piccolo corridoio nel corridoio ci sono una serie di quadri che sono praticamente i 12 giardini chiamati perché è un percorso di fede che lei ha fatto queste immagini che appunto si possono vedere non qui nella chiesa ma quando noi entriamo nella cappella prima di entrare sono stati dipinti da una pittrice di Bologna che si chiama accanto a Leonelli la quale appunto ha messo questi vari punti questi vari momenti diciamo così di spiritualità che le persone possono seguire per avvicinarsi però io direi la cosa particolare no queste sono quelle della vita però direi che la cosa particolare di questo luogo io invito ripeto i telespettatori a andarci è l'energia che si percepisce anche chi non crede anche chi diciamo così magari è un po' più materialista quando entra lì dentro c'è un'area di pace di tranquillità di equilibrio che fuori diciamo che non si avverta ecco è certo e un altro particolare perché Santa Caterina fu a Santa Caterina per meglio dire vennero affidate le massioni di Portinaia quando era a Ferrara e in quel periodo fece entrare nel convento un pellegrino che arrivava dalla Palestina che al momento in cui lasciò il convento le regalò le lasciò una scodellina che disse era quella nella quale la Beata Vergine Maria dava da bere al suo divin figliuolo dice il pellegrino e lascia questa scodella dicendo che l'avrebbe ritirata al termine del suo pellegrinaggio poi non si sa se il pellegrino sia tornato ma sta di fatto che questa 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 sorta di bicchiere fece sì che avvenissero tanti tantissimi miracoli a Ferrara proprio in quel periodo per chi semplicemente lo toccava o lo venerava e beh insomma sono tutte cose è chiaro che fanno parte del nostro cammino la voglio ripetere c'è un'altra cosa che avvenne appunto un altro miracolo che avvenne la notte di Natale del 1445 lei quella notte lì recitò mille avemarie e mille avemarie sono tante e alla fine di questa recita le apparve Gesù Bambino che praticamente si fece baciare e questa è un'usanza che molte persone di Bologna o comunque legate a questa chiesa hanno questo è di recitare queste mille avemarie la notte di Natale proprio per ricordare questo evento miracoloso eh certo abbiamo parlato di quella che viene ricordata al secolo come Santa Caterina da Bologna la particolarità ovviamente oltre i tanti miracoli oltre al fatto che fu una donna pur essendo vissuta a metà del millequattrocento moderna come più moderna non si può come abbiamo ricordato anche miniatrice addirittura eh diciamo che questa non è una roba semplice no 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 perché sappiamo perfettamente che ci volevano anni di studi per diventare un frate emanuense emanuense ecco qua vedete qui si vede bene questa miniatura è certo ma non solamente bisogna sapere usare i colori ci sono queste chi va a visitare la cappella ci sono queste due cose che lei ha fatto ha fatto un quadro diciamo così proprio un quadro della vergine col bambino ma tutto decorato e poi un'altra immagine che è sdraiata invece che è stata proprio invece dipinta sul legno e ha aggiunto tutta una serie di perline di fiocchi contro fiocchi che sono rimaste diciamo intatte da 500 anni quindi questa è un'altra cosa che merita andare a vedere come merita andare a vedere la viola che lei suonava questa è un'altra particolarità certo si è intravista comunque nelle immagini perché avere una viola nel 1450 non era cosa di tutti i giorni abbiamo parlato di madre Caterina de Bigri passata come detto alla storia come Santa Caterina da Bologna ma soprattutto è ai giorni nostri per il fatto che come abbiamo visto dalle immagini e come avete sentito per quello che accade tutt'oggi il suo corpo è incorrotto e continua ad emanare sudore come se fosse ancora in vita luoghi e misteri alla prossima tappa a Grazie a tutti.